Luca, ti rubo una battuta, tutto bene intanto? Sì, tutto bene. Sensazioni? Belle, belle vincere sempre il tempo. È stata dura, dobbiamo lavorare tanto, però c'è empatia, c'è empatia con... C'è tanto feeling, vi cercate. Sì, sì, ci cerchiamo, ci spattiamo. Siamo all'inizio, abbiamo tanto da fare, però ci divertiamo. Il pubblico ci crede. Grande pubblico, avanti, il resto non è sempre così, sono capito. Nel quest'anno dovremo togliersi delle belle soddisfazioni. È una battuta su Michele, vuoi, ha già vinto la Supercoppa, con due triple della Madonna. Con la bordo a giocare, mi chiesto, grazie.